Siamo qui presso il Palaschiamo in località Taverna ed è proprio qui che sarà ubicato il centro USCA, centro di unità speciale di continuità assistenziale. I lavori sono in atto e da quanto ci hanno detto gli operatori termineranno per lunedì e sarà pronto questo centro. Poi contestualmente sarà inserita anche una tenta drive per mettere sempre un posto riservato a cinque medici dell'esercito per aiutare in questo momento a fare tamponi e sgravare così l'ospedale di Battipaglia di un lavoro in mane che attualmente non è possibile tenere sotto controllo.